Ciao a tutti, in questo video continuiamo a parlare di X-Tool M1 che è la macchina che vedete qui, la macchina taglio laser che all'interno ha anche la lama da taglio e quindi utilissima e molto efficace perché ci permette di fare più lavorazioni con uno strumento solo ve ne ho già parlato all'interno di due video qui sul canale uno generale che vi permette di vedere proprio la guida completa, addirittura 40 minuti di video per utilizzare fin da subito la X-Tool M1 in un altro video invece abbiamo visto la funzione estrai quindi è una funzione che ci permette di prendere un disegno e di lavorare direttamente con quel disegno trasformarlo ad esempio in un taglio che andiamo a fare con il laser oggi invece vediamo un'altra funzione particolare molto interessante di questa macchina cioè il print and cut, stampa e taglia quindi con il software di X-Tool M1 noi possiamo creare la nostra grafica, il nostro disegno stamparlo direttamente a partire dal software con la nostra stampante normale e poi inserirlo nuovamente all'interno della macchina e con questa tagliarlo quindi riconosci i bordi e li taglia utilizzando questa funzione vi farò vedere come creare degli adesivi eccoli qui li ho già tagliati ovviamente eccoli qui, questi sono adesivi vi lascio i riferimenti anche della carta adesiva che ho utilizzato per questi e è facilissimo farli con questa macchina vedremo proprio da zero come poter fare in più oltre allo stampa e taglia visto che parliamo di adesivi vi faccio vedere un'altra modalità a partire questa volta dalla funzione estrai vi faccio vedere un modo un po' più manuale però abbastanza semplice per fare di nuovo gli adesivi quindi vediamo due modalità diverse uno print and cut e l'altro da estrai tutti i riferimenti sia dei video precedenti che il link per andare a vedere la scheda della macchina ed eventualmente acquistarla ve li metto qui sotto in descrizione li inserisco anche nel primo commento con le indicazioni che vi servono per andare allo shop europeo perché il link vi rimanda a quello americano con tutte le indicazioni che trovate sia in descrizione che nel primo commento potete andare a attivare anche arrivare allo shop europeo bene, cominciamo con il print and cut quindi stampa e taglia benissimo, la prima cosa che facciamo è andare a preparare la macchina quindi visto che lavoreremo con la lama andiamo a sistemare anche il tappetino con la lama da taglio quindi io scelgo il tappetino azzurro e lo vado a posizionare all'interno della macchina lo devo posizionare lo dovremo posizionare esattamente dove ci sono le linee bianche sul fondo della macchina quindi prima togliamo l'adesivo dietro e poi facendoci aiutare dalle linee bianche lo andiamo ad incollare praticamente sul fondo della macchina vi ricordo anche che è necessario calibrare la lama se per caso non l'avete appena usata per un altro taglio e l'avete rimessa io l'ho già inserita possiamo utilizzarla ovviamente questa macchina anche senza lama soltanto con il laser se l'andate a inserire e utilizzare ricordatevi di calibrare nel video generale abbiamo visto come si fa a fare questa operazione e dopo aver preparato la lama da taglio all'interno della macchina preparo anche le immagini che mi serviranno per creare la grafica io utilizzo Arasac lo abbiamo già visto qui sul canale perché mi permette di andare a ricercare i pittogrammi che mi servono e sono molto interessanti perché gli adesivi li utilizzo soprattutto appunto con i pittogrammi come vedete posso andare a ricercare le parole chiave in questo caso ho cercato banana per gli adesivi del cibo la cosa importante è che io posso andare a selezionare il colore di sfondo come assente vedete che l'interruttore è disattivato questo mi permette di scaricare l'immagine anche proprio senza sfondo quindi se andiamo a scaricarla la scaricheremo in PNG e questo ci aiuterà moltissimo con la grafica successiva quindi l'immagine che mi serve io la scarico appunto all'interno del mio computer e faccio così anche per le altre immagini quindi in questo caso vado a ricercare sempre una parola relativa al cibo cioè pollo così abbiamo anche delle forme un po' diverse e vediamo nel taglio come reagiscono vado sempre a disattivare il colore di sfondo e poi a scaricare la mia immagine ne preparo 4 di immagini quindi banana, pollo, torta e pizza così appunto abbiamo forme diverse e adesso non ci resta che andare sul software di Xtool M1 per combinare il tutto e creare il nostro design eccoci qui su Xtool Creative Space come vedete ho già collegato la macchina quindi l'Xtool M1 perché vedete proprio l'immagine in questo caso del tappetino che abbiamo già posizionato all'interno per comodità inserisco anche il foglio bianco così vedo come risultano gli adesivi anche sul foglio bianco ora non dobbiamo fare altro che creare il nostro design che poi vogliamo andare a stampare per caricare le nostre immagini andiamo su immagine le andiamo a ricercare tra le nostre cartelle selezioniamo la prima e la inseriamo eccola qui cominciamo con la banana poi faremo la stessa cosa con le altre vado a ridimensionarle in modo tale da avere la dimensione che voglio poi come stampa del mio adesivo e faccio così per tutte le altre benissimo ora dobbiamo preparare le nostre immagini per la stampa e il taglio quindi le seleziono tutte in questo caso per comodità e sulla destra dove abbiamo la lavorazione andiamo a selezionare stampa e taglia con lama è l'ultima lavorazione vedete sotto laser piano e andiamo a selezionare direttamente quella andiamo poi a selezionare il materiale con la seconda lavorazione vi farò vedere un altro materiale che è quello esatto per gli adesivi ma visto che lo avete subito a portata di mano potete anche utilizzare il vinile autoadesivo come impostazione di taglio va benissimo l'abbiamo visto anche in uno dei progetti precedenti nella guida generale a questo punto vi faccio vedere un dettaglio noi adesso abbiamo inserito soltanto le immagini se andiamo in elaborazione visto che abbiamo selezionato stampa e taglia guardate cosa succede vedete che in alto mi dice attenzione aggiungi il percorso di taglio del motivo da stampare quindi non è sufficiente andare a inserire le immagini stamparle per poi tagliarle dobbiamo andare ad inserire anche un bordino un contorno che sia il nostro percorso di taglio non vi preoccupate perché è molto semplice cosa facciamo? di nuovo andiamo a selezionare le immagini lo possiamo fare anche per un'immagine alla volta oppure lo facciamo con tutte le immagini selezionate in una volta sola e andiamo nella funzione contorno che crea quello che viene definito offset noi possiamo decidere se questo contorno deve essere proprio aderente diciamo così al contorno al bordo nero in questo caso della nostra immagine e allora andremo a tagliare esattamente il disegno oppure deve sbordare un pochino a me piace solitamente che sbordi un pochino perché così ci viene il contorno bianco dell'adesivo che mi piace di più perché fa risaltare meglio l'immagine in questo caso voi scegliete quello che preferite e poi andate a selezionare quindi la distanza in millimetri nel mio caso seleziono due e vedete già che compare proprio una lineetta attorno all'immagine questo è il contorno che sarà il nostro contorno di taglio il nostro percorso di taglio perfetto vedete che sulla destra cosa che invece prima non succedeva visto che adesso abbiamo selezionato e inserito un percorso di taglio abbiamo anche la funzione taglia che sarà ovviamente la seconda fase del nostro percorso ma possiamo andare a selezionare e ad impostare eventualmente anche questa e poi a questo punto sì che possiamo andare in elaborazione se per caso le dimensioni del vostro disegno perché per il print soprattutto abbiamo delle dimensioni già predefinite compare un avviso quindi vedete che è tutto guidato in questo caso dobbiamo rimpicciolire appena appena il nostro disegno selezionando tutto anche i contorni abbiamo la possibilità di ridimensionare tutto ancora una volta andiamo in elaborazione perfetto vedete che comincia la procedura di stampa e taglia print and cut quindi la prima cosa che ci viene detta e richiesta è di stampare il nostro design quindi vedete il passo 1 possiamo andare su stampa selezioniamo quindi la nostra stampante quella che vogliamo andare ad utilizzare se vogliamo andare su preferenze lo possiamo fare per scegliere ad esempio la qualità della stampa e poi con stampa nuovamente dalla finestra che compare andiamo direttamente a inviare il disegno alla nostra stampante eccola qui che stampa ovviamente ho inserito la carta adesiva così avremo poi la possibilità di spellicolare il nostro adesivo e vedete che stampa anche dei crocini quelle crocette al bordo che serviranno poi anche alla nostra macchina per riconoscere la posizione esatta del nostro disegno dopo aver stampato ecco che il software torna alla procedura e passa allo step 2 lo step 2 ci richiede di inserire il tappetino noi l'abbiamo già fatto e di inserire il design al centro del tappetino ricordatevi di allinearlo questo tappetino sul software a questo punto possiamo andare su avanti farà il riconoscimento del materiale quindi vedrà che abbiamo inserito il tappetino con il foglio e poi abbiamo il terzo step l'ultimo che è quello del taglio dove vediamo un'anteprima intanto del nostro percorso di taglio andiamo a fare anche l'inquadratura eccola qui con il pulsante in modo tale che la macchina veda esattamente il disegno che siamo andate ad inserire diciamo che la nostra inquadratura è stata completata e poi in alto a destra andiamo su inizia adesso ci spostiamo sulla macchina nuovamente per dare il via al taglio ed ecco che la lama si avvicina al nostro disegno e comincia a tagliare il nostro contorno quello che abbiamo inserito prima in questo caso con un piccolo bordino ed ecco qui che taglia ricordatevi ovviamente come vi dicevo all'inizio di inserire la lama da taglio e di calibrarla con la procedura che vedete nel video generale quando finirà tutto il taglio la procedura ecco che anche sul software avremo l'indicazione di completato ed ecco qui i nostri adesivi che possiamo andare a spellicolare quindi togliamo la parte nel mio caso gialla dietro che è quella non adesiva e abbiamo il nostro adesivo che possiamo attaccare sui libri sui quaderni dove vogliamo benissimo con lo stampa e taglia avete visto che abbiamo creato i nostri adesivi questa è una funzione diciamo automatica che è proprio guidata quindi non possiamo sbagliarci stiamo attenti ovviamente a come sistemiamo il tappetino facciamo tutto quello che ci dice la macchina però è molto semplice vediamo adesso invece come vi anticipavo come utilizzare la funzione estrai che ovviamente è una modalità diciamo per la creazione di adesivi o di tagli in generale un pochino più manuale poi vedrete perché dovremo andare a sistemare l'offset a mano però così vediamo anche questa seconda modalità sempre per i nostri adesivi eccoci qui sempre all'interno del Xtool Creative Space quello che ho fatto stavolta è andare a stampare a creare con qualsiasi altro software la mia grafica quindi ad esempio posso crearla con Canva e stamparla sulla carta adesiva e come vedete ho già posizionato all'interno della macchina sia il tappetino sia l'adesivo la carta adesiva il foglio adesivo su cui ho stampato la mia grafica quindi la parte di stampa l'ho fatta all'esterno del software adesso quello che noi dobbiamo fare è andare a creare il nostro percorso di taglio prima però andiamo a far riconoscere il disegno che noi abbiamo inserito sulla sul foglio sulla carta adesiva alla nostra macchina quindi il primo passaggio è utilizzare la funzione estrai andiamo a selezionare e vedete che attraverso la fotocamera è riuscito a imprimere lo vedete dai bordini trasparenti a fare una fotografia praticamente alla nostra grafica compare la finestrella sulla destra che ci dà la possibilità di utilizzare la bacchetta magica la bacchetta magica ci serve per togliere tutte quelle parti di immagini che non ci servono noi andremo a lasciare solo il pollo la pizza e la torta in questo caso quindi solo proprio l'immagine che ci servirà come adesivo quindi con la bacchetta magica vado a fare un click sul bianco del foglio ecco qui vedete che me lo rende completamente trasparente e poi dovrò togliere anche tutta la parte azzurra del tappetino quindi in questo caso con la bacchetta magica ci permetterei troppo tempo perché dovrei togliere quadrettino per quadrettino vado quindi a prendere la gomma come strumento e cancello faccio il più grande possibile vedete che compaiono quei quadrettini tipici bianchi e grigi dello sfondo trasparente io dovrò andare a lasciare soltanto l'immagine che voglio andare a tagliare e adesso ho anche la fotografia praticamente digitale della mia stampa eccola qui allora cosa devo fare con questa fotografia la prendo e la sposto magari ingrandisco un pochino per fare in modo che si sovrapponga perfettamente all'immagine reale che ho già stampato eccola qui la vado a spostare magari con le freccette e a questo punto anche dell'immagine digitale vado a creare il contorno l'offset vado quindi su contorno scelgo la distanza dall'immagine in questo caso lascio sempre due millimetri perché come vi dicevo mi piace avere un bordino e vado su ok ecco qui vedete che c'è il nostro bordino che in questo caso è dell'immagine digitale ma corrisponde anche al bordo che vogliamo tagliare sulla nostra carta che abbiamo già stampato e inserito all'interno come lavorazione sulla destra andiamo a selezionare soltanto taglio con lama perché non dobbiamo più stampare stavolta visto che abbiamo già stampato esternamente se per caso come in questo caso vi sposta tutta la grafica potete anche cancellare il disegno quello che è stato estratto e l'unica cosa che dovrete andare a fare è riposizionare il contorno esattamente dove volete che venga tagliato quindi il contorno è diventato diciamo così a sé lo riposizionate proprio attorno per quello che vi dicevo che è un pochino manuale questa procedura attorno al disegno che voi vedete comunque dalla fotocamera dell'Xtool M1 perché noi vediamo il suo interno andiamo a scegliere dopo il processo quindi taglio con lama anche il materiale possiamo utilizzare sempre il vinile come abbiamo visto prima ma se andiamo in altri adesso vi faccio vedere che intanto sulla destra andiamo a deselezionare solo supportati così vediamo tutti i materiali poi se andiamo a cercare white eccola qui vedete che abbiamo anche la possibilità di utilizzare white sticker paper e quindi carta adesiva bianca andiamo su usa eccola qua così lavorazione taglio su carta adesiva bianca e andiamo su elaborazione vedete che in questo caso l'unica elaborazione è quella del taglio andiamo su inquadratura ancora una volta e poi quando abbiamo finito l'inquadratura andiamo in alto a destra su inizia ci spostiamo quindi sulla macchina diamo l'avvio vedete che la carta adesiva è già sul tappetino ed ecco che comincia il taglio del nostro contorno fatto dall'immagine estratta taglia prima un contorno poi piano piano taglia l'altro e infine anche il terzo ed ecco qui anche gli altri nostri adesivi creati con la seconda procedura in questo caso con l'estrai e anche questi in questo caso sono singoli perché ho utilizzato una potenza una pressione un po' più alta e li possiamo utilizzare sui nostri quaderni benissimo quindi abbiamo visto tutto quello che ci serve per cominciare a creare i nostri adesivi io sto cominciando a sticherare qualsiasi cosa scrivetemi se vi è piaciuto e se vi piace questa modalità quella che vi piace di più magari se avete già acquistato la macchina so che molti di voi l'hanno fatto quindi sono molto contenta perché mi arriva direttamente il messaggino e mi avete contattata anche in diversi scrivetemi invece se vi piacerebbe anche acquistare la macchina vi ricordo tutti i riferimenti in descrizione e nel primo commento e vi ricordo anche che se vi piacciono questi argomenti quindi tecnologia educativa e creativa potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina così potete ricevere tutte le notifiche mi raccomando anche per me sapere che vi piacciono i video quindi che vi iscrivete magari mettete un mi piace e attivate la campanellina è molto importante perché così so quali video posso continuare a fare e che quello che faccio qua sul canale è apprezzato io vi invito comunque a venire qua assieme a me tutti i giovedì per parlare assieme di tecnologia educativa e creativa ciao ciao